E' l'avvocato Mauro Cordasco il nuovo presidente del club Rotary di Castrovillari. Nella splendida location di Villa Bonifati, il passaggio del collare è simbolo della presidenza tra Mauro Cordasco e il sacerdote, rettore della Basilica di San Giuliano di Castrovillari, Don Carmine De Franco, presidente uscente del club di servizio castrovillarese, nato nel 1986. Il Rotary è un'organizzazione internazionale nata in America nei primi anni del Novecento, diffusasi poi in tutto il mondo. Oggi ci sono un milione e duecento soci. Il Rotary è un club service che cerca di migliorare la qualità della vita delle persone. Uno dei più grandi progetti fatti dal Rotary International, ha sottolineato il neopresidente Cordasco, è stato quello della polio. Proprio notizia di quest'ultimo mese, l'Africa è stata dichiarata polio free. grazie a oltre un miliardo di bambini vaccinati, grazie al Rotary, ai suoi volontari, anche ovviamente al denaro che ogni socio per quasi 30 anni ha messo ogni mese per finanziare questo enorme progetto, una cosa grandiosa. Don Carmine, durante la sua relazione finale, ha esternato il proprio ringraziamento ai soci del club e al suo direttivo per l'impegno e la passione con la quale lo hanno sostenuto durante questo anno sociale, ricco di iniziative e di soddisfazioni, esternando i migliori auguri al neopresidente Cordasco. Durante il suo mandato, Don Carmine ha realizzato il libro dal titolo Servizio e il suo nome, edito da Il Coscile, nel quale ha raccontato il mondo rotariano, il ruolo dei soci, la loro integrità morale e lo spirito con il quale ogni socio può dare qualcosa con entusiasmo e gioia. Noi nel nostro piccolo, sul territorio, interveniamo in una serie di iniziative, sia culturali che anche sociali, per migliorare le condizioni di vita di chi non è stato molto fortunato. Nel corso della serata presenti, oltre rappresentanti di numerosi club della Calabria, Saverio Bianco, Leopoldo Ippolito, assistenti del governatore e il sindaco della città, Mimmo Lopolito, è stato ricordato il compianto Lino Tetro, amico e socio fondatore del club castrovillarese, presenti la moglie e i figli. Prima di passare al saluto del neopresidente, l'uscente Don Carmine ha premiato con la Paul Harrison, fondatore del Rotary International, il primario del reparto di cardiologia dell'ospedale di Castrovillari, Giovanni Bisignani, per quello che ha fatto e sta facendo per il reparto di cardiologia del nosocomio, per i suoi meriti in campo scientifico, i suoi lavori e le sue pubblicazioni, che hanno contribuito alla crescita della cardiologia italiana, allo sforzo e al merito di coniugare la missione del medico con quella dell'uomo. Presidente, una grande responsabilità per lei per questo anno sociale. Che cosa ha in mente di fare? Quali progetti che lei ha pensato? Un mio pensiero era quello di realizzare un progetto per avvicinare un po' le nuove generazioni, e non soltanto i giovanissimi, ma anche i ragazzi che studiano all'università, al mondo tecnologico, a questo mondo che corre velocissimo e sta lasciando indietro un po', non solo noi, ma addirittura l'Italia, è già indietro rispetto ad altri stati, quindi si sta creando un solco culturale, professionale, dove i giovani non riescono a colmare questo gap, e noi cercheremo con l'aiuto sia degli enti che ci saranno vicini, che dell'Accademia, del mondo scientifico e del mondo imprenditoriale, che abbiamo già contattato, di creare un hub, che è un luogo dove si potranno sviluppare dei progetti e delle professionalità con il tutoraggio del mondo scientifico, e chissà, potrebbe diventare una grande opportunità.